Radio Bruno Povere di stelle, non c'è dubbio, Liga Bue è qui su Radio Bruno, bentornato Luciano Grazie, ciao a tutti quanti Senti che sigla abbiamo, senti cosa dice Ti dice niente questo happy hour? Eh sì, dice tante cose Ma è il programma più azzeccato Liga Bue Hai visto che puntualità? Vedi? Che precisione Punto torna Benvenuto su Radio Bruno, siamo pronti quindi per iniziare questa bella intervista Voglia di conoscerti e di sapere tante cose oggi Senti, parliamo subito di cose serie, sei contento di Conte all'Inter? Sì, sono contento Perché Bonolis ha già dato l'ok, volevo sentire un altro tifoso doc No, sono contento, allora intanto vabbè, a parte il dispiacere comunque per Spalletti perché insomma c'è da dire che era finalmente un allenatore di nome Luciano dell'Inter È vero Nato sotto sezione dei pesci come me e come l'Inter Sì Perché l'Inter è nata sotto sezione dei pesci Ho detto è lui, proprio lui Dopodiché mi dispiace che in tutti e due gli anni abbia avuto difficoltà serie perché il primo anno non hanno mantenuto le promesse che gli hanno fatto al mercato Quest'anno ha avuto un po' di problemi Però Conte insomma, io l'idea di tutto, io di Conte ricordo molto bene che quando è nato l'Italia è riuscito a farsi voler bene un po' da tutti Era un'Italia che piaceva un po' a tutti Quindi l'idea che uno possa mettere insieme delle squadre e che si possano far voler bene Specialmente insomma per uno che ha voglia come tutti gli altri interisti di vedere un po' più di continuità Sì mi sembra che sia una... Tu lo sai che Radio Bruno è foderata di interismi a partire dal presidente della radio che è interista Allora no, non posso saperlo però mi fa piacere saperlo perché dobbiamo fare gruppo Vedi, giochi in casa due volte oggi un po' perché sei nella tua terra Allora oggi parliamo solo di Inter No, io non mi intendo assolutamente Mi dispiace per te però tu ogni tanto dirai di sì o di no a seconda del fatto che ci vedi accalorati in una direzione piuttosto che un'altra No, dall'Inter agli stadi per fare un gancio subito perché parte una cosa importante Tra poco, no? Sì, sì, sì Non stai nella pelle Beh, finalmente Il 14 di giugno Anche perché poi a conti fatti è un anno e mezzo che non faccio concerti E se non è un periodo così lungo per la norma, diciamo così per me è tantissimo Io fatico a non andare sui palchi e quindi sto veramente contando i giorni E oramai fortunatamente sono pochi che ci dividono da Bari che è la prima per l'appunto Ebbene sì, tra l'altro ti accompagnano sempre dei musicisti che ormai conosci molto bene Ligabù è legato ad una band, giusto? Sì, io allora Io ho sempre avuto questa idea in testa Io volevo fare fin dall'inizio il cantautore Un cantautore che avesse il suono di una band E quindi per avere il suono di una band ho sempre avuto bisogno di una band Ed è quello che in qualche modo ho sempre avuto Poi vi viene il tempo e sono cambiate le band E abbiamo dovuto fare un cambiamento in corsa nell'ultimo periodo Gioco Forza perché Michael Urbano che ci ha fatto compagnia negli ultimi 11 anni Ha deciso per motivi privati, personali Che non poteva più continuare in questa avventura d'Italia Doveva lavorare a casa sua E abbiamo innestato uno di Bologna Quindi siamo diventati più emiliano-centrici Perché oramai siamo quasi tutti della zona come all'inizio Io, il mio primo gruppo era tutto di Reggio Emilia E adesso siamo quasi tutti nell'Emilia E questo divano Tuono Zanotti ha questo appellativo non per caso Si chiama Tuono non per poco Invece alla produzione del disco Starte c'è una novità Un ragazzo giovane, una collaborazione In particolare, due generazioni che si incontrano Si è stato un incontro fortunato Almeno per me, spero anche per lui Federico Nardelli è un produttore a 30 anni Quindi neanche più giovanissimo E' molto giovane per me Per come ne vedo io le cose Però che ha avuto veramente il pregio Di mettere le mani nel mio suono E dare comunque una sensazione sua In cui mi ci riconosco proprio Lo sento molto mio il suono di Starte E sento anche un'energia speciale in questo album Che mi sembra proprio che abbia a che fare un po' con le cose dei primi album L'ho detto più di una volta Anche se è chiaro che insomma i primi album sono molto diversi Insomma però erano cose fatte 30 anni fa E quindi Però il tipo di energia è molto simile Ma il suono è bellissimo Posso dirti onestamente che ieri in macchina Appena ho ascoltato l'intro di Polvere di Stelle Ho detto Ah ma spacca questo Perché Sì sono Credo sia veramente un suono molto bello Ha una C'è un'intenzione rock Però insomma con anche la capacità di Avere la sensibilità dei giorni nostri Quanti pezzi avevi pronti per questo album? Dunque Attorno a una ventina più o meno Ed è anche forse la prima volta scusa che scendi sotto gli undici brani Perché sono dieci Sono dieci Ho voluto essere più essenziale In genere Bisogna essere veloce In genere Sbordo un po' in genere Insomma sono un po' verbosetto Avevo È tutto un album Anche le canzoni sono mediamente più brevi del solito Avevo voglia di essere più conciso Ma il tempo è giusto perché sono 40 minuti Un viaggio preciso No uno Dipende che viaggio fai Eh beh sì è vero È vero Io di solito sono su quella media lì On the road 40 minuti Luciano tra l'altro è la prima volta Che troviamo una tua foto in copertina finalmente Ah sì Giusto Lì è colpa Non merito Colpa di Maioli Che è il mio manager Che è da almeno 20 anni che me lo dice Eh però Prima o poi Avrò la soddisfazione Di vedere la tua faccia sulla copertina di un tuo album E io Un po' per ripicca non l'ho mai messa Invece a sto giro qua Dicevo no ma A sto giro qua ci sta Per tutto il progetto che c'è nell'album Ed è una foto bellissima posso dirlo È un gran film Grazie Lo dico Grazie No no è una foto vera Cioè la realtà è che è una foto Insomma io adesso sono un po' in quello lì Insomma è chiaro che se uno vuole andare a fare i confronti con Le foto di 30 anni fa Eh ci vedrà la differenza del caso Abbiamo cominciato giustamente con i giorni nostri Adesso andiamo agli esordi Proprio al primissimo album Anche se poi è stata rifatta nel 2003 No quella che sentiamo adesso Sì ah ho già capito di che canzoni parli Eh beh sì Gran periodo Gran periodo quel 1990 1990 Un anno È stato un anno veramente fantastico È stato un anno delle prime cose Per me in assoluto di tutto Ed era anche l'anno dei mondiali Per cui non sai in quanti intervisti ho parlato di schillacci Immagino Piccola stella senza cielo Liga bue Senti io che sono un appassionato Anche un collezionista di oggetti Devo farti complimenti anche per le foto che ci sono nel disco Perché a me piace maneggiarli Toccarli i dischi Mi piace averli in mano E devo dire che nel ci dice di più che nel vinile Stavo guardando questa vinile bianco 180 grammi edizione limitata e numerata Nel cd ci sono più foto e mi piace di più In realtà c'è l'edizione deluxe Diciamo così del vinile Che è praticamente la versione Tipo quella Però con più foto eccetera Ed è veramente una delle cose più belle In termini di confezione che abbiamo mai fatto E mi piace anche perché c'è Immagino foto di famiglia Sì perché è collegata al tempo davanti Che è un po' la storia Quando eri piccolo con la tua mamma E il tuo papà Come un filmino Ascoltandola Sembra la canzone Sembra proprio di vedere le immagini Di un filmino di famiglia Ancora in bianco e nero Ripassato poi magari in digitale Per rivederselo da adulti È effettivamente così È proprio un episodio In cui mi sono ritrovato a vedere Per l'appunto i miei In un superotto girato Nel fine anni 60 addirittura Loro erano giovanissimi E mi sono rimasto molto colpito Ancora nel vederli così più giovani di me E vederli ancora così pieni di fiducia Nella vita così felici Come poi in realtà Ho quasi sempre visto in casa mia Io ho avuto molta fortuna con i miei genitori Gente super semplice Super umile Che doveva fare i conti con la fine mese Ma sempre contenti Insomma sempre con una predisposizione al sorriso Sono stati un bel modello Beh questo è molto importante Tra l'altro anche tu sei molto legato alla famiglia Parliamo un attimino di tuo figlio Che fa parte tra l'altro di una traccia di start Ha suonato praticamente la batteria In La Cattiva Compagnia Ma non è la prima volta No in realtà Aveva suonato veramente da bambino In una traccia che è in Arrivederci Mostro E praticamente l'aveva coinvolto Rustici Che era il produttore di allora Era una cosa molto così Che non doveva essere preciso Doveva essere così un po' suonata E quindi lui si è ritrovato tipo a Non mi ricordo bene Tipo a 9-10 anni A suonare questo pezzo qua Che è Takabanda Ma è proprio così È una cosa fatta in maniera abbastanza divertita E vuole essere divertente E in questo caso invece con la traccia Appunto La Cattiva Compagnia Con La Cattiva Compagnia Semplicemente Nardelli aveva proposto questo finale In questo pezzo qua Che è un pezzo Il finale è abbastanza metal Diciamo così Quindi non c'entra più di tanto Con quello che in genere faccio io Però il tempo di batterie viene raddoppiato E a quel punto Scusate io ce l'ho in casa il batterista metal Perché quindi ha provato a suonare Immediatamente abbiamo capito Che avrebbe menato Con facilità in quella parte Ed è stato Insomma è stato bello Comunque in ogni caso Mi ha fatto piacere vedere anche come si è mosso Come è arrivato in studio Come è entrato dietro la batteria Con che tipo di sicurezza O almeno finta sicurezza mostrava E con che facilità l'ha fatto Sì mi è piaciuto vederlo Io invece che con gli anni Divento sempre più malinconico E più blues Prima mentre parlavi dei ricordi di famiglia Sul tempo davanti Stavo pensando che il tema del tempo È qualcosa che ricorre spesso Nella tua carriera Nei tuoi testi Perché ho un approccio alla musica Molto simile a quello che ho con i libri Mi piace leggere i testi Sì Beh guarda Allora io ho alcune parole Che ripeto spesso e volentieri Perché pensiamo che siano abbastanza chiave Sono parole molto semplici Se tu guardi in molti In molti titoli di canzoni mie Ci sono parole tipo Mondo Cielo Tempo Che sono parole che Nel contemplare tantissime cose Nel frattempo si prestano a tantissime interpretazioni diverse Anche la parola tempo Fa la stessa cosa se ci pensi un attimo Perché c'è anche un tempo del suonare C'è il tempo ovviamente del vissuto C'è un tempo meteorologico Allora io sì come chiunque faccio i miei conti ovviamente con il tempo Perché siamo vittime del tempo In realtà è un'invenzione nostra L'unico tempo che conta è quello che stiamo vivendo Perché il passato e il futuro Lo sento vicino a me soprattutto quando hai scritto una vita da mediano Messo via È una questione non so se è generazionale O comunque è bello perché poi ogni ascoltatore Prende una canzone che un cantautore scrive E ci si rispecchia Ne trova un vissuto Magari ne dà un'interpretazione Una chiave di lettura tutta sua E magari l'autore voleva dire altro Però l'importante è rispecchiarsi E ritrovarsi in quel che viene detto Ma io credo che l'importante è che una canzone Riesca a fare qualcosa di utile E qualcosa di utile è Già se ti fa ballare Ha già fatto qualcosa di strautile Già se ti strappa un sorriso Ha fatto qualcosa di strautile Se ti produce un'emozione E tu la vivi con una riflessione opposta A quella di chi l'ha scritta Secondo me va benissimo L'importante è che abbia questa sua utilità Le canzoni sono lì apposta E sono molto potenti oltretutto Nel poterlo fare Come nasce una tua canzone? Dove e come? Io sono molto curiosa Allora le mie canzoni nascono Diciamo non c'è Non c'è una regola Però nascono sempre dalla musica Sempre Io arrivo ad avere un'idea Che poi magari diventa un'idea Di cui ho bisogno di parlare Però è sempre mossa intanto da una musica che ho scritto Ti faccio un esempio Mi viene in mente una melodia che fa E pian pianino dentro mi ci finisce lì Sempre lì Lì nel mezzo E a quel punto capisco che sto parlando Del ruolo del mediano E a quel punto ci scrivo sopra Per l'appunto Ti immagino con la chitarra a casa In una stanza Che suoni E inizia questo percorso Allora io ho più chitarre Ho più chitarre in più stanze Che vuol dire che praticamente Non mi viene in mente una cosa Mi fermo subito Ho un sacco di registrazioni E di appunti per l'appunto Funziona così mediamente E tante volte poi A volte mi metto a riascoltare Un po' di appunti Di cose che ho registrato velocemente E c'è qualcosa che mi colpisce di più Rispetto alle altre Da lì nasce spesso il testo Abbiamo cominciato con una sigla Che diceva happy hour E allora Direi che Eccola Anche questa durante dei mondiali E attenzione I mondiali che abbiamo vinto Senti sul mediano L'hai già fatta Hai mai pensato al Gregario In nove secondi Del ciclino Quello è un po' difficile Perché è uno sport Un po' difficile da raccontare E parliamo dopo Happy hour Liga Bue Liga Bue Su Radio Bruno Happy hour Con questa Se non sbaglio Hai vinto il Festival Bar Forse per la seconda volta O ricordo male Può darsi Che magari Vado un po' a memoria io Dunque Credo di sì Non sono sicuro Se non lo sai tu Allora sono perdonato anch'io Nel caso avessi sbagliato Io ho purtroppo Veramente una memoria Imperdonabile A chi lo dici Però No Mi sa di sì Mi sa di sì E poi ci sarà Un'altra sorpresa All'arena di Verona Per i Music Awards A proposito di premi Tra un po' Leggevo Sì Andiamo a Verona Saremo lì Il 5 di giugno Il 5 Sì sì Per i Win Music Awards Sì sì A proposito di sorprese E parliamo ancora Del tour Ci sarà la data Del 28 di giugno A Milano Correggimi se sbaglio Ma il 28 giugno Del 1997 Tu ti sei esibito A San Siro Allora Appena detto Che non è a memoria Appena detto Però questa te l'assicuro io Io Sono Di una cosa Sono certo Che nel 97 Ho fatto il mio primo San Siro Quello sicuramente Allora ci siamo Quello che fosse il 28 giugno Questo Non sono così sicuro Ce lo dicono i fan Allora se lo dicono i fan Io mi fido di loro Perché stanno preparando Per te Una sorpresa Io non ti posso Svelare nulla Hai già svelato qualcosa Però Comunque mi fa una sorpresa Ci saranno Perché ci tengono Ci hanno scritto In settimana E allora Ricordati questa cosa Un bel giro Stavo guardando le date Per non sbagliare Mi sono stampato tutto Il calendario Delle date del tour Dovrebbero stamparle Anche per me Le ricordo Le ricordo Vado velocemente Abbiamo detto Il 14 giugno Allo stadio San Nicola di Bari Il 17 di giugno Allo stadio San Filippo di Messina Il 21 Allo stadio Adriatico di Pescara Il 25 All'Artemio Franchi di Firenze La bella cornice Stadio prestigioso Non che gli altri Non lo siano Però Insomma Questo evoca Ricordi calcistici Importanti Anche per un appassionato Di Sporco Vettè Il 28 di giugno A San Siro Nel Tempio A Milano Il 2 luglio Allo stadio Olimpico di Torino Il 6 luglio Allo stadio Dall'Ara di Bologna Ecco un'altra volta I giochi in casa Il 9 luglio Allo stadio Euganeo di Padova Il 12 All'Olimpico di Roma Fine calendario Lei su Padova Ha alzato la manina Eh sì Perché lei Di lì capito Ma a proposito di questo tour Hai dedicato una canzone Proprio a come vivi tu No? Una giornata tipo Prima di salire sul palco Ah sì Bella Allora La canzone si chiama Io in questo mondo E È un tentativo È un tentativo di cercare Di dare un Tanto una risposta A chi E sono stati in tanti In tutti questi anni Mi ha chiesto Sì ma cosa si prova Quando sei lì sopra Davanti a tutta questa gente Io non ho mai trovato Delle parole indicate E adeguate Al tipo di emozione Che provo E Hanno sempre parlato I fatti Cioè il fatto che io Abbiamo fatto così tanti Concerti E ne voglia fare sempre di più Vuol dire Quanta emozione Mi produce questa cosa Però descriverla È molto difficile Cioè come è molto difficile Non so Prova a descrivere L'emozione Di quando fai l'amore Non so Prova a usare Delle parole adeguate No? Allora Vale altrettanto Ho provato con io In questo mondo A raccontare Quello che vedo Dal momento in cui Una macchina Mi viene a prendere Al periodo interminabile Che va Dal momento in cui Arrivo sul posto Fino a quando Non devo studiare sul palco Perché veramente Non mi passa il tempo A quello che succede Quando sono sul palco Proprio Quindi allo spettacolo A cui io assisto Che secondo me È uno spettacolo migliore Di quello che produco io Questo è come La vedo io Folle inarrestate E quindi È per quello Anche che soffro Di dipendenza Dal palcoscenico Te la godi tutta Insomma Sì me la godo tutta Avrai modo Adesso Tra poco Di tornare Senti Io l'ascolterei Questa però Dal tuo nuovo album Start E poi ti volevo chiedere Perché Start Questa parolina breve Allora intanto Sentiamo la canzone È un'altra questa Sì Mai dire mai Ah certo Sì 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 Liga 2 con Mai dire mai No scusate Stavo sorridendo Sì perché perché Stavo pensando a Fede Poggi Pollini Che Quest'anno Io e lui festeggiamo Le nostre nozze d'argento Perché sono 25 anni Che sono andati insieme E Questo L'assolo finale Di Mai dire mai È un assolo Che a me piace moltissimo Sì Ed sono quelle cose Che non si fanno più Nei dischi Non gli assoli di chitarra Ahimè purtroppo E Insomma Noi un po' Ostinatamente Mi ce l'abbiamo voluto mettere E mi dispiace Pensare veramente Che Questa canzone Sarà destinata Se passerà per radio Ad avere Ad essere interrotta Prima della solo finale Interrotta prima della solo Oppure Pensando Che ogni volta Lui Se per caso Si imbatte In quel tipo di ascolto Si darà delle coltellate Nello stomaco Farà un po' di karakiri Allora noi la lasceremo dare Fino all'ultimissimo istante Non come stavolta Non come stavolta Cercate di accertarvi Cercate di accertarvi Se poi Gipollini All'ascolto Vole la mettete su Ma questa amicizia Questa collaborazione 25 anni Un aneddoto Qualcosina Con lui Avremmo Avremmo bisogno Di una settimana Perché Fede è un produttore Di tantissime cose Da aneddoti Ed è anche per quello Che lì Comunque no Fede è veramente Un po' Il mio braccio destro Per tanti aspetti Non solo musicali Ma anche proprio perché C'è Mette un'energia Sempre molto importante Dentro i progetti Che è sempre stata Decisiva E poi fa E poi mette anche Tanta allegria Con fede Si ridi tanto Parli sempre di energia Tu tra l'altro Oggi Molto più Del solito Ah sì Oggi ho parlato di più Vabbè E si vede che Dovrò Sto facendo un percorso La sensibilità femminile Ha colto questo Io invece stavo pensando Quando parlavi Di questa amicizia E questo rapporto Professionale Che sono Quelle storie Sulle quali si potrebbe Scrivere un libro Ma tu ne hai scritti Di libri Ne rifarai ancora Nel senso che Pensavo che Scrivere un libro Correggimi se sbaglio È uno spazio Forse più intimo Forse anche di più Che in una canzone Dove poter Esprimere in modo Più esteso Se stessi Magari c'è più tempo Non lo so Diciamo che Allora Io Mi sono sempre mosso così Credo Che le canzoni Abbiano una sorta Di debito Verso la gente Cioè le canzoni Vanno scritte Perché ci sia qualcuno Che le canti Poi In giro Quindi devono avere Anche una loro Accessibilità Devono avere Una loro Possibilità Di essere popolari Io Perlomeno Li ho sempre viste così E così mi sono mosso Quando ho scritto libri Ho fatto film Non ho mai pensato Queste cose Ho sempre detto Adesso dico Qualcos'altro Senza preoccuparmi Di quell'aspetto E Scrivere libri Vuol dire Che tante volte Cioè Mentre in una canzone Che ripeto È uno strumento Pazzesco Tu comunque Hai un numero di parole Limitato da poter usare Perché dentro Una canzone Ce ne stanno Trecento Non lo so Quante canzone Che devono suonare Devono avere Devono andare in rima Devono avere una certa metrica Invece quando scrivi un libro Tu praticamente Hai tutta la libertà del mondo E poi decidi tu Se farne un romanzo Da mille pagine Cosa che io Non ho mai fatto Non farò mai Oppure fare una serie Di racconti Come ho fatto Per tre volte Per dirti Io ti dico Che dopo le trecento pagine Mi scoraggio Ma in tanti Leggevo stamattina Che praticamente C'era un'indagine Che dice Che la metà Dei ragazzi E non ha L'ultimo anno Non ha letto Neanche un libro La metà E quindi questo È indicativo Di qualche cosa Senti ma è vero Che una volta Eri in un campo E ti sei messo Ad urlare Contro il cielo Per dare sfogo Beh questo Questo non Questo non voglio Svelarlo Perché allora Diciamo che se fosse Cioè fra la realtà La leggenda È sempre meglio Che vinca la leggenda Giusto Però noi ascoltiamo La canzone Che è leggenda Stavolta si Facciamo briscola Vi ha parlato Una canzone E la sentiamo Anche E la cantiamo E la balliamo Anche Liga V E urlando Contro il cielo Qui su Radio Bruno Liga V E su Radio Bruno Certe donne Brillano Come Fabiana Ad esempio Altre un po' meno Altre un po' meno Eh non tutte Possono brillare Altrimenti come faremmo A notare Quelli che brillano È giusto Giusto Senti prima Vedi ho poca memoria Meno di te Ti volevo chiedere Tu me l'hai spiegato Fuori onda Però diciamolo a tutti Perché hai fatto Questo titolino Così breve star Perché hai fatto anche Titoli che sembravano Fin dalla Vermuller Sì è vero Specialmente il secondo Che era L'ambrusco coltello Di rose Popcorn No però anche il primo Aveva un titolo Molto breve Sì Era Liga V Liga V E basta Guarda È venuto fuori Non lo so Probabilmente come concetto Che va insieme A tutto il resto Dell'album Cioè tutto molto Essenziale È una parola secca Di una sillaba E sembra proprio Quasi una La schioccata Di una frustata Ma dentro c'è anche Un po' Una sorta di fiducia No? Se ci penso Un attimo Start Partenza Che è il suono Molto diverso Che non Restart No? Eh sì E quindi Mi piaceva Che fosse così Poi magari Sapevo anche Che mi avreste chiesto Come mai Abbiamo Un argomento di più Ad cui Non so neanche Bene rispondere Fino in fondo Quindi per cui Era un po' Il discorso Che No Mi piaceva anche Il fatto Che fosse Abbastanza sfacciato Come titolo Francamente Cioè il fatto Che qualcuno Dicese Ma senti Ma perché lui Dopo tutti questi Dopo 29 anni Adesso fa un album E lo chiama così E mi piaceva Che ci fosse Anche quella sorta Di sfacciatagine Lì Però è anche vero Che in ogni mio album Io lo sento Come una partenza E non come una ripartenza Ed è anche vero Che vengo Da un periodo Che è stato difficile Che è stato il periodo Dell'operazione Le corde vocali A parte che sono patofobico Non farmi impressionare Mi raccomando No no Sappi che va tutto bene Oh bene Siamo contenti Va tutto bene Se succede È un incidente Che ti fa star male Per un po' di tempo Psicologicamente Però va tutto bene Ok Hai parlato del tuo primo album Il prossimo anno Il 2020 Sono 30 Anni 30 Farai qualcosa Stai pensando a qualcosa Farò Sì Farò una torta Io con le mie manine A forma di disco Molto sottile Qualcosa dovremmo fare Per forza Quindi sicuramente Adesso Non so se Maiole si è già messo lì A pensarci A che cosa No qualcosa Faremo senz'altro Poi su che cosa Vedremo anche Senti è più impegnativo Fare un disco Un libro O un film Mi sa un film Come Fatica Il film Sì Il film è sicuramente La fatica più grossa Specialmente per uno Che è abituato Tutto sommato Lavorare Abbastanza da solo Per quello che riguarda La parte creativa Invece lì Anche soltanto In termini di organizzazione Devi proprio Collaborare con gli altri E poi Sul set Il set è veramente Molto faticoso Per almeno Per come sono fatto io Tu sei uno di quei registi Che dice all'attore Guarda come la faccio io E rifalla Oppure gli chiedi Di trovare qualcosa Dentro di sé Per No io sono uno di quelli Che tende A far sentire Un'intonazione Però Nel senso che Credo Insomma Che se c'è qualcosa Di buono Che posso mettere Nel fare E per l'appunto La musica No Quindi anche la musica Del parlato Facciamo sentire Un'altra intonazione Noi adesso Qui in corridoio Sembrava di essere Allo stadio Prima No spieghiamolo Perché c'era il coro Stavano cantando Di fan Adesso Stavano cantando Certo donna e brino Mi sa che devo rientrare Allora E adesso secondo me Ci daranno ancora Di ugola Con questa Trapalco in realtà Liga 2 con Trapalco in realtà Ricordiamo Il 14 giugno Stai contando Le ore e i minuti Secondo me Allo stadio San Nicola di Bari Inizierà questo Tour Che ti vedrà poi A Messina Il 17 Il 21 a Pescara Il 25 a Firenze Il 28 a Milano Poi a Luglio Il 2 a Torino Il 6 a Bologna Il 9 a Padova E il 12 Allo stadio olimpico di Roma Tutte gliele hai ripetute Tutte Hai fatto bene Soprattutto Soprattutto Sono già in clima Cioè sono già In precampionato Di brutto Proprio perché Sto già provando Sul palco E quindi Che è già Ovviamente non possiamo dire dove Ma è già allestito Quindi sto già Prendendo le misure Su quello Quindi Insomma Comincio già Veramente a sentire L'aria Che era quella Che volevo sentire E a proposito Di precampionato Io ti ho detto Solo alla fine Che sono milanista Per non dare Questo colmo Eh ho capito Ho capito Ti perdono Va Però stavamo Dicendo Stavamo dicendo Fuori onda Parlando di calcio Che effettivamente Cioè Gattuso Se ne è andato L'hanno vista Come una brutta stagione Voglio Chi provi Che possa far meglio Al di là di quello Cioè Vuol dire Basta che Lempoli Non trovi San Andanovic Negli ultimi minuti Milan In questo momento Sarebbe in Champions League Quindi È veramente difficile Anche alla Juve Allegri Ha vinto quel che ha vinto Eppure è come se Avesse perso tutto Perché è stato eliminato Dalla Champions League Anche lì Per un non nulla Perché poi Quella partita Che aveva recuperato A Madrid Che ha perso Negli ultimi secondi Su Rigor Cioè Poteva essere Una storia Completamente diversa Vabbè Il calcio È anche questo adesso Resti a parlare Di pallone con me Dopo il programma Sì Tantissimo Però non ne capisco nulla Abbiamo visto Fabiano sbadigliare Adesso porta pazienza Speriamo che non sbadigli Gli ascoltatori Però no Dai Senti Ci salutiamo qui Su Lucid America Sì Hai fatto un giochino Tu hai lì Ho fatto scusa Un giochino Sui social Perché hai lanciato Questa non la so Eh sì Questa LDI Ci hai lasciato Ah sì All'inizio Naggia C'era di capire Di cosa parlavi Eh no Sì Era Sì In realtà è stato Fatto questa roba Con il Com'è che si chiama Il light painting No Quindi praticamente Le luci Che tu puoi Fotografare No E quindi Abbiamo detto Che bello però Che con l'iniziale Del titolo Poter fare Questa cosa E sì Poi Lucid America È uscita E ha svelato Questo arcane Finalmente Ecco perché non la so Roba troppo giovane Per me Io posso parlare Di pallone Ma Luciano grazie Grazie a voi Buone Piaua A venire Ecco E soprattutto Buon weekend A tutti quanti Ti aspettiamo E non vediamo l'ora Di vederti dal vivo Ciao un abbraccio Ciao ciao